Giorno di 19 gennaio 2017, benvenuti a una nuova puntata di Good Morning in Milano. Sono le 9.37 minuti, siamo un po' in ritardo secondo la nostra abituale scaletta, però abbiamo visto il telegiornale molto pieno, insomma, questa notizia, questo nuovo calendario delle mostre per il 2017-2018, insomma, ha riempito il nostro telegiornale, ma volevamo darvelo perché veramente Milano, per l'ennesima volta, se ce n'era forse o non ce n'era forse anche bisogno di conferma, però si conferma appunto, una grande capitale dell'arte, una grande città d'arte e questo 2017 non sarà da meno notizia di pochi giorni fa, ieri ci sono usciti questi nuovi dati, Milano supera nel 2017 il numero di turisti che aveva avuto nel 2015 nell'anno di Expo, quindi ancora meglio rispetto agli altri anni. Va bene, ma andiamo al dunque, andiamo a questa puntata. Questa puntata, come vi avevo anticipato ieri, parleremo di politica, ma in realtà non solo, nel senso che abbiamo una politica, qui ospite questa parola, che insomma ogni tanto qualcuno si vergogna a dire, noi non ci vergogniamo ad usarla, anzi siamo ben contenti che esistano e ci siano, anche quando poi sono giovani, bravi, intelligenti e fanno il loro mestiere, a prescindere poi da che schieramento, di che schieramento siano. Di chi sto parlando? Abbiamo qui il Presidente del Consiglio Comunale di Bucinasco, Rosa Palone. Buongiorno a tutti, ciao Fabio, grazie. Buongiorno a te Rosa, grazie di essere qui. Appunto, come dicevo, parlare di politica sembra ormai che bisogna parlare solo di cose brutte, cattive, di gente che ruba, scappa, prendi i soldi e scappa, no? Sembra un po'. Invece ci siamo accorti in questo anno ormai di programmazione, in questo anno di Good Morning Milano, fra un po', arriremo quasi a un anno, che c'è tanta gente, soprattutto, una volta rimango stupito, anche molto giovane, tu sei giovanissima, che si avvicinano alla politica e la fanno in maniera più che attiva, perché tu, Presidente del Consiglio Comunale, non è fare politica, proprio è metterci anima e corpo tutto il giorno. Partiamo da questo, però, dov'è Bucinasco? Pronto, come dicevo, noi siamo Milano News, ci vedono in tutta la città metropolitana, ci vedono quindi anche dalla zona est, dove è Bucinasco? Che tipo di comune è Bucinasco? Bucinasco è un comune di 27.000 abitanti, nella prima cintura di Milano, a sud-ovest, proseguendo oltre Porta Genova, siamo il primo comune che si incontra uscendo da Milano, siamo a 6 km da Piazza Duomo, 6,5 km, quindi vicinissimo alla nostra città più amata, appunto, Milano, tantissimi nostri cittadini si muovono addirittura in bicicletta a piedi verso Milano, quindi è proprio confinante e conurbata con Milano, quindi il confine spesso non è molto chiaro per chi si muove per la prima volta nella nostra zona. Siamo all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, questo polmone milanese da tutelare sempre e comunque a nostro avviso, fate conto che siamo un territorio di 12 km quadrati, 6 km quadrati sono di Parco Agricolo Sud e 6 km quadrati sono di città. All'interno di questi 6 km quadrati di città soltanto il 33% è urbanizzato, il resto comunque è un paesaggio comunque verde ed ha un aspetto comunque ancora conservato, ecco, da questo punto di vista. Mi dicevi però 27.000 abitanti. Sì, è un bel comune. È un paese ancora o può manacità a tutti gli effetti? Allora, di fatto è ancora un paese, è una zona residenziale, nel senso che Bucinato si è sviluppato soprattutto dagli anni 80 in poi. È molto recente come sviluppo. Esatto, quindi non abbiamo quei servizi che ci permettono di essere considerati una città. Per noi i servizi della città sono i servizi che ci offre Milano, non abbiamo l'ospedale, non abbiamo la stazione, quindi non abbiamo le scuole superiori, abbiamo soltanto le elementari, gli asili, le medie, tanti asili nido, ecco, però non abbiamo delle strutture che ci permettono di essere considerati comunque una città, nonostante il numero di abitanti. Ma questa non è vista quasi mai come una sofferenza, perché Milano ci offre davvero tutto, ecco, anche i paesi limitrofi con cui siamo conurbati. Ecco, diciamo prima, in queste settimane continuo ad avere ospiti politici sempre più giovani, nel senso che sono gente comunque che dice, cavolo, pensavo fossero i sindaci, abbiamo avuto lunedì il sindaco di Cornaredo, che ha poco più di 30 anni, anzi era stato eletto che forse non aveva ancora fatto neanche i 30 anni, se non mi ricordo male. Se ne aveva 29, infatti. Infatti, non mi ricordo male. Anche tu sei giovanissima, cos'è che però spinge un giovane in questo momento ad andare a fare politica, oltretutto, passami in termine, in un partito classico, cioè tu non fai parte appunto del Movimento 5 Stelle, quindi magari che può essere un po' più attrattivo verso magari i giovani, invece è un partito un po' anzi. è proprio un po' vecchio, anche a volte è un po' ingessato, diciamoci, ho questo PD un po' ogni tanto un po' troppo ingessato. Cosa ti spinge a entrare in politica? Allora, io sono stata eletta in una lista civica, quindi il mio sindaco comunque del PD, la lista civica era in coalizione con il Partito Democratico, ma una lista civica autonoma, indipendente, quindi questo è anche così, a volte è bello dirlo, per far vedere che vicino al PD ci sono anche altre realtà civiche che con intelligenza vogliono mettere insieme delle persone per fare in modo che la città funzioni, per portare dei contenuti anche più pratici rispetto a quello che è magari un pensiero politico più articolato e anche più concentrato sulle tematiche nazionali, quindi i movimenti civici, questo devono portare i contenuti, non le polemiche in stile Movimento 5 Stelle, questo ci terrei a dirlo e non è un attacco al Movimento 5 Stelle, a me piacerebbe avere un'opposizione che mi dice è un consiglio, questa sarebbe una bella cosa da fare, sarei felice di questo. È imparato molto bene a fare la politica, rispondimi a una mia domanda, come hai iniziato, perché hai iniziato? Ho iniziato perché nel 2011 hanno arrestato l'ex sindaco di Bucinasco di Forza Italia, Lores Cereda, che attualmente è stato condannato in via definitiva a tre anni e tre mesi per corruzione. A quel punto ho deciso che forse era necessario impegnarsi in prima persona per provare a cambiare le cose. Non avevo io molto feeling con questo sindaco e lo criticavo molto, però poi l'hanno addirittura arrestato, però mi sono detta ma io cosa potrei fare per migliorare la mia città oltre che criticare? La mia critica evidentemente era una critica giusta, visto che poi è stato condannato, credo, però comunque ho detto va bene con criticare, ma io sarei in grado di fare qualcosa per la mia città. A questo punto ho deciso di iniziare un percorso e di provare a candidarmi, questo è stato. Ecco, diciamo che non è che però non facevi niente prima. No, ero... Se avevi già un'attività comunque... Comunque può dire un'attività politica a tutti gli effetti, non partitica, non politica amministrativa, ma comunque insomma di importanza in un comune proprio come Buccinasco. Sì, sono stata referente dell'Associazione Libera, che è l'associazione presieduta da Don Cioti, Don Luigi Cioti, che fa dell'antimafia sociale la sua missione, in un comune appunto come Buccinasco, che è stato negli anni fortemente infiltrato e addirittura colonizzato dall'Andrangheta, è stata un'attività importante che ha aiutato molto a formarmi, a relazionarmi politicamente con le persone del territorio. Questo sicuramente. Ho imparato anche a conoscere le persone, che in politica è la cosa più importante, secondo me. Nel momento in cui tu conosci una persona, riesci a capire se Dindole è una persona onesta oppure se non lo è. E questo è fondamentale per la vita politica. Se non avessi vissuto a Buccinasco, avresti avuto comunque questa esperienza in Libera, secondo te? O è stato importante anche dove tu stavi, il tessuto sociale in cui sei cresciuta? Il tessuto sociale in cui sono cresciuta, secondo me è stato importante, nel senso che fin da piccola io ero stata molto colpita dalla morte di Falcone, di Borsellino, avevo sei anni, però le notizie del telegiornale erano forti ed erano passate, quindi comunque mi era rimasto qualcosa dentro. Nel momento in cui ho iniziato a studiare e capire in autonomia qual era la storia del comune in cui vivevo, ho detto forse anche io, visto che vivo qua, devo fare qualcosa. Perché secondo te la mafia è ancora una cosa, in questo caso nel milanese è più l'andrangheta, però è ancora una cosa così che sentiamo lontana. Insomma, la mafia non esiste, è di memoria di qualche anno fa. Poi invece ogni giorno sentiamo cronache... Perché sa rendersi invisibile, quindi non viene percepita, sa rendersi invisibile ai cittadini comuni. È un qualcosa che noi non notiamo andando per strada, io stesso non l'avevo notata andando per strada a Vucinasco. È un qualcosa che tu devi studiare, devi capire, dopodiché riesci a individuarla, riesci a individuarla all'interno di alcune dinamiche, anche politiche o no, della città. Quindi comunque un danno ai cittadini ci arriva comunque. La mafia, il primo obiettivo è fare un danno ai cittadini, quindi questo sicuramente. Se uno si muove a Vucinasco e si informa minimamente, sa che in un territorio così ci sono otto immobili confiscati alla criminalità organizzata. Vuol dire qualcosa di otto immobili, sono tanti. E tra l'altro tutti quanti sono relativi all'operazione Cerverus, che è negli anni 90, perché gli ultimi processi non sono ancora arrivati alla fase del terzo grado, quindi non c'è stata la confisca definitiva. Quindi anche questa dà la percezione della presenza dell'andrangheta sul territorio. Ad esempio. Ma i 90, quindi parliamo dell'operazione nord-sud del 93. Comunque ha tanti anni che qui, non è una cosa recente. Assolutamente no. La prima operazione di polizia che ha iniziato a fermare l'andrangheta nel milanese è stata l'operazione nord-sud, appunto, che è del 93. Quindi non è recentissima. Ci sono state poi altre operazioni, la Cerverus, Parco Sud, insomma. I cittadini cosa possono fare loro? I cittadini cosa possono fare in prima persona? Innanzitutto non essere indifferenti, cercare sempre di capire quali sono le dinamiche, capire la credibilità delle persone. Relazionarsi, secondo me, a volte è sufficiente per capire che la persona con cui stai parlando non è una persona che agisce in buona fede. Quindi questo, secondo me, è fondamentale. Fermarsi un attimo e cercare di relazionarsi con le persone. Ok, meglio. Torniamo alla tua attività, invece, politica attuale. Siete a fine mandato con questa giunta, quindi ti chiedo un veloce bilancio di fine mandato. Com'è andata? Allora, abbiamo trovato una situazione iniziale che era complicata, difficile. Quello che il mio sindaco ha voluto fare, ed era nel suo programma elettorale, era quello di normalizzare la macchina comunale, normalizzare il comune. Sono state riscritte molte regole relative alle procedure per gli appalti, è stata riorganizzata la struttura comunale, gli uffici sono stati, tra virgolette, messi in ordine, come si suol dire. Quindi su questo diciamo che è stato un grosso lavoro, anche molto complicato, che la città magari non può vedere subito, ma che, a nostro avviso, i benefici si sentiranno in futuro sulla normalizzazione delle regole. Sono state fatte anche cose più visibili, che magari possono passare in secondo piano, ma non lo sono. Ad esempio, sono state fatte all'incirca, in media, 4 km quadrati di asfalto o marciapiedi all'anno, e questo per un territorio come quello di Bucinasco, a nostro avviso, è qualcosa di importante. Già attualmente, in questo momento, sono in corso dei lavori per circa 770 mila euro, per il rifacimento di alcuni parcheggi, alcune strade, alcuni marciapiedi. La manutenzione. Sì, la manutenzione ordinaria è qualcosa di fondamentale, perché se noi camminiamo per strada, abbiamo la buca, come ce ne sono, perché ovviamente ci sono le buche, ci sono i pericoli purtroppo, ma a nostro avviso, anche se guardiamo ad altri comuni della stessa zona, la nostra situazione non è così disastrosa come magari qualcuno prova a raccontare anche questo. Una cosa di cui proprio sei fiera che invece questi 5 anni siete riusciti a fare, magari proprio con il tuo zampino, diciamo. Con il mio contributo. Con il tuo contributo. Allora, io sono un consigliere comunale, quindi una consigliera comunale, e quindi ho il ruolo di presidente del Consiglio Comunale, ma ho anche la delega, l'educazione e la legalità, appunto per questa mia storia, questo mio passato in libera. E noi abbiamo realizzato... Educazione e legalità insieme? Educazione alla legalità. Ah, educazione alla legalità. Sì, educazione alla legalità. Avevo questa delega. E come prima, diciamo, subito già il primo anno, come prima cosa, abbiamo deciso insieme all'amministrazione di realizzare proprio una rassegna culturale che si tenesse ogni anno a Bucinasco dal titolo Bucinasco contro le mafie, realizzata dal comune di Bucinasco con le associazioni del territorio. Quindi chi normalmente fa vivere la città ha dato una mano, quindi nella sua vita culturale, nella sua vita sociale, ha dato una mano a realizzare questa rassegna. Ogni anno sono stati organizzati circa 6-7 eventi per sensibilizzare la popolazione sul tema dell'antimafia sociale, per far capire qual è il territorio in cui viviamo e di cosa stiamo parlando. Un lavoro importantissimo è stato fatto in tutte le scuole ogni anno, sempre in Bucinasco contro le mafie. Percorsi strutturati, con educatori istruiti per fare questo, percorsi sulle regole, sull'antimafia, addirittura dalla scuola dell'infanzia, quindi dall'asilo. Abbiamo fatto percorsi dalla legalità nella scuola dell'infanzia, nelle scuole elementari, nelle scuole medie e quest'anno anche nell'istituto professionale che è presente sul nostro territorio. Quindi abbiamo proprio cercato di investire, oltre che economicamente, anche in termini di risorse culturali, proprio nella scuola, nell'educazione e la legalità. E questa è una cosa di cui, devo dire, vado molto fiera, perché è un lavoro di cui c'è sempre bisogno. Qualcuno molto più importante di me diceva che la mafia può essere, diciamo, distrutta soprattutto da un esercito di insegnanti, più che da un esercito. Quindi questo, secondo me, è un lavoro fondamentale che abbiamo fatto. Invece sicuramente ci sarà qualcosa di in questi cinque anni che avreste dovuto fare e non sei riuscita a fare. Ma diciamo che sono diverse le cose che comunque la nostra amministrazione avrebbe voluto fare e non è riuscita a fare. un progetto sociale rivolto di più alle famiglie, un'attenzione, nonostante, insomma, abbiamo istituito un bando anticrisi che aiutava economicamente le famiglie di difficoltà. Quindi abbiamo cercato di incanalare le risorse economiche a disposizione del nostro comune che non sono poche. Per fortuna abbiamo una situazione di bilancio buona. però stare ancora di più vicino alle persone secondo me è l'obiettivo principale dovrebbe essere l'obiettivo principale di un'imministrazione. E quindi secondo me questo a volte non è stato possibile ma insomma vorremmo lavorare ancora per migliorare in questa direzione. Tu sei il presidente di un consiglio comunale che ha, credo da poco, chiuso il bilancio, giusto? Questo è il periodo in cui ha chiuso il bilancio. in realtà si parla apriamo fuori l'onda l'avete chiuso anche molto bene. Sì. L'ANCI ha fatto un studio giusto? Sì, L'ANCI è l'associazione nazionale dei comuni italiani perché magari tutti gli ascoltatori non lo sanno. A volte abbiamo per scontato questi termini che in realtà le persone tutti i comuni hanno un'associazione in cui si uniscono. Gli 8.000 comuni italiani hanno un'associazione che si chiama ANCI che li riunisce e L'ANCI ha stilato una classifica dei comuni più virtuosi individuando diciamo non dati politici o dati soggettivi dati oggettivi relativi ai bilanci che i comuni hanno stilato stilato e in questa classifica l'hanno fatta sul triennio 2012 e 2014 il comune di Buccinasco è risultato il terzo comune per virtuosità in provincia di Milano e in tutta la Lombardia quindi credo che sia un riconoscimento importante per la nostra città che è riuscita a fare che siamo riusciti ad ottenere grazie al lavoro a mio avviso della politica che ha fatto un buon lavoro e grazie all'aiuto dei dipendenti che a volte tra mille difficoltà hanno contribuito a migliorare quella che era la situazione della nostra macchina comunale ecco è un territorio quello di Buccinasco comunque poi intorno a tutti i suoi comuni di Mitro Vicorsico Trezzano Aldilaccio Cesano una zona abbastanza tra una delle zone più popolose forse del sud ovest milanese una zona molto molto popolosa nonostante l'alto grado anche di verde che esiste comunque appunto col parco agricolo sud milano ed è una di quelle zone che starà interessate marginalmente dagli interventi della M4 che stanno arrivando a Milano il progetto che in questo momento stanno portando a termine cioè portando a terra che stanno costruendo chissà quando arriverà a termine farà arrivare la metropolitana a poche centinaia di metri dal vostro comune lì si ferma e voi dovete prendere e andare c'è invece una richiesta da parte vostra di prolungare fino ad arrivare nel vostro comune perché c'è un pezzo proprio di comune vostro che sarebbe comodo anzi dove faranno il deposito finale la situazione è un po' che va avanti qualche mese ormai che va avanti come siamo messi cosa vi hanno detto da M4 c'è la vostra da voi che tipo di idea c'è per il futuro di questa linea allora ci tengo a chiarire che a Bucinascu tutte le forze politiche maggioranza e opposizione tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale quindi il centro-sinistra e il centro-destra perché da noi non è presente in consiglio comunale momento 5 stelle sono tutti favorevoli in maniera trasversale a fare una fermata della metropolitania linea 4 a Bucinasco quindi su questo abbiamo unità di intenti su questo siamo molto contenti perché è importante che chiunque governi questo comune poi porterà possa portare avanti questa istanza questa fermata scusa se ti disturbo se ti interrompo è comunque una fermata abbastanza periferica giusto all'interno del comune cioè non sarà molto centrale vero? allora noi vamo all'inizio richiesto a M4 la possibilità di fare una fermata al deposito attuale di M4 che comunque è sul territorio di Milano la zona ronchetto è sul territorio di Milano per dire da casa dei miei genitori è di fronte perché noi siamo conurbati con Milano quindi dal balcone di casa dei miei genitori si vedono i lavori del deposito della M4 nonostante sia Milano c'è il mezzo di Naviglio che è giusto che li divide no? neanche no? no no è dall'altra parte del Naviglio è proprio di fronte a Buccinasco è sul confine con Buccinasco quindi proprio al confine non c'è non c'è differenzazione territoriale non ce ne si accorge uno non se ne può accorgere se non lo sa non se ne può accorgere e quindi noi abbiamo detto caspita c'è il deposito lì fateci anche la fermata visto che comunque la situazione a livello di mezzi pubblici è sempre migliorabile come tutti i cittadini tutti i cittadini sanno abbiamo però con le M4 un po' discusso è aperto un tavolo di confronto e ci sono state fatte delle proposte propositive M4 ci ha detto però voi siete Buccinasco insieme a Corsico Cesano e Trezzano sono un bacino d'utenza di 100.000 abitanti 100.000 cittadini provate a mettervi insieme e a proporre un piano che possa soddisfare le esigenze di tutto il territorio in modo tale che anche il governo possa essere incentivato a finanziare una infrastruttura che soddisfi un bacino d'utenza a ridosso di Milano non poche decine ma qualche centinaia qualche centinaia esatto in modo tale che più è possibile finanziarlo poi in effetti è una i milanesi sognerebbero poi di andare a Likia con la metro a quel punto anche questo esatto a Likia di Corsico esatto tutti andrebbero quindi anche i cittadini milanesi devono supportarci anche perché noi abbiamo anche ad esempio a Buccinasco se non volessero andare a Likia magari i mariti vogliono venire nei nostri parchi con i bambini quindi le mogli vanno a Likia oppure al contrario mandiamo i mariti le famiglie possono distribuirsi in maniera insomma in base ai propri interessi in base alle appunto alle proprie preferenze quindi soddisfare un bacino d'utenza così importante potrebbe dare delle possibilità in più per il finanziamento questo è quello che noi infatti adesso abbiamo chiesto abbiamo chiesto di poter fare uno studio di fattibilità tecnico che può fare soltanto M4 e quindi ci stiamo muovendo in questa direzione vi siete già parlati con i comuni limitrofi? sì Corsico inizialmente era contrario a spendere 30.000 euro per fare lo studio di fattibilità ad esempio ma poi si è convinto della diciamo necessità di portare avanti questo progetto anche perché i cittadini l'avevano chiesto e quindi ci siamo resi conto che è un progetto che dobbiamo portare avanti insieme siete a fine mandato però insomma a fine mandato cosa succederà? non si sa ci saranno sicuramente a Buccinasco le primarie nella coalizione del centro-sinistra in cui si dividirà il candidato sindaco quindi il sindaco attuale non si ricandida? il mio sindaco attuale Gian Battista Magrano non si ricandida perché ha detto che vuole giustamente godersi un po' la pensione a 70 anni vuole godersi i nipoti è anche un po' stanco e quindi lascia spazio a chi riceverà il consenso da parte dei cittadini si sa già chi potrebbero essere i candidati delle primarie? proprio in una fase di discussione in questo momento non ancora ufficiale ma giorni si saprà sicuramente quando saranno? le primarie saranno il 12 il 12 di marzo sì la data non è ancora ufficiale ma posso anticiparlo il 12 di marzo quindi a breve comunque ci saranno i nomini dei candidati più di tanti più di due più di sette tre o quattro tra tre o quattro ultimamente con queste primarie saranno a volte primarie con sette candidati diciamo che il partito democratico avrà un proprio candidato che ha già indicato e poi ci saranno degli indipendenti che potranno partecipare perfetto di dire guarda abbiamo veramente siamo arrivati perfettamente al nostro orario di chiusura spero di aver e questo lo chiedo ai cittadini di Bucinasco scriveteci se abbiamo lasciato qualcosa indietro e sicuramente credo che Rosa tornerà volentieri ospite qui per rispondere nel caso a qualcosa che abbiamo lasciato fuori dal discorso di questa mattina io Rosa davvero ti ringrazio tantissimo di essere ospite qui con noi grazie Fabio ci rivedremo presto magari quando saranno le primarie per raccontarci un po' come stanno andando le cose a Bucinasco oppure dopo per vedere se sarà ancora parte di questa giunta non sappiamo cosa succederà poi più avanti cosa cosa si decideranno poi i cittadini di Bucinasco se ridarvi o no la fiducia che vi hanno dato 5 anni fa grazie davvero mille di essere con noi grazie a tutti io ringrazio anche voi che ci avete seguito questa mattina dalle 7 e mezza in diretta con i telegiornali di Milano All News in quest'ultima mezz'ora in compagnia di Rosa Palone con Good Morning Milano vi do appuntamento oggi pomeriggio ore 17 e 30 sempre in diretta qui sulla pagina di Milano All News con i notiziari in diretta sempre fino alle 20 e io personalmente vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano grazie a tutti buongiorno e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti